Uno, due, tre... Presidente, buongiorno. Oggi l'uomo elegante deve essere conservatore. E non bisogna disturbare un dittatore, Antonio, ricordatene. Dieci mila! Siete una perla, signorina Cuno. Perché non mi avete sorvegliata meglio? Eh, ci penso già abbastanza a quei bisogni. Lidia, fate qualcosa perché vi dà noia. Molti degli operai sono attualmente in sciopero. Ma vi prego, la misura! Ah, se per questo non porta nemmeno gli slip. Venite, venite. Begonia mi tradisce. Quando è nudo fa la sua porca figura. E questi comunisti non ci vogliono credere. E gli ho dato anche una pettinata. Con la falce e il martello. E i vostri genitori? La stella rossa! La stella rossa! Il tempo! Questa sera! Questa sera! Questa sera! Questa sera! Questa sera! Questa sera! Lo fate tutti? Sì, devo fare la riscisa della foto, non lo so, non lo vedo.